Mighty No. 9 rappresenta il grande ritorno della serie Megaman sotto mentite spoglie direttamente dalla mente del suo creatore originale Keiji Nafune che ci delizia con un gameplay dall'effetto puramente nostalgico che si rifà proprio ai vecchi platforming della serie Megaman con tutti i suoi pro e i suoi contro molto divertente, molto frenetico sicuramente impegnativo per quanto riguarda il livello di sfida proposto dall'altra parte l'effetto nostalgia risulta fin troppo marcato in quanto il titolo risulta addirittura fin troppo vecchio sia per quanto riguarda le meccaniche di gameplay molto limitate sia per quanto riguarda un aspetto tecnico davvero poco curato sia per le texture di gioco sia per quanto riguarda il level design questa era la nostra recensione in 60 secondi di Mighty No. 9 naturalmente per tutti i maggiori approfondimenti del caso io vi rimando alla nostra recensione completa di cui potete trovare il link qui in basso in descrizione un salutone e alla prossima